purtroppo ragazzi è così, va così, va così, va così, a Napoli prendi due tiri, anzi un tiro e mezzo perché poi prendi col suo rigore meritando di vincere la partita e non la vinci, oggi secondo me la Juventus meritava di vincere la partita e non la vinci si continuano purtroppo a vedere tantissimi errori tecnici soprattutto a centrocampo ormai io non voglio ripetere sempre le stesse cose, anche oggi venite fuori quelli che difendono sempre Locatelli venite fuori, quelli che difendono sempre Locatelli a dire sempre che Locatelli non performa per coppa di Allegri uscite fuori, cioè che ormai con voi parlate di calcio e solamente parlate di Allegri analizzare una partita diviene talmente difficile che non lo so perché comunque una partita, ripeto, che secondo me meritavamo di vincere alla fine esce un pareggio dove noi nel primo tempo tiriamo tre punizioni tutte e tre sulla barriera, loro mezza punizione, fanno gol su schema soprattutto stiamo prendendo gol veramente che in difesa una volta eravamo con scuola più forte, qualcuno si lamentava del cortomuso tempi lontani, tempi lontani quando non si subiva gol oggi si prende gol in qualsiasi modo, anche nella maniera più ridicola comunque, un attimo, comunque, secondo me, ripeto, oggi la Juventus come a Napoli è una partita che meritava di vincere, non ci gira nulla bene ci prendiamo questo pareggio che è molto stretto, secondo me è molto stretto anche se l'Atalanta con due o tre tocchi riusciva ad arrivare facilmente in porta oggi, ennesima cosa che voglio dire al mister, che Ilditz va messo prima Ilditz non va messo all'ottantanovesimo, Ilditz va messo prima quindi, ricapitoliamo, secondo me oggi abbiamo fatto una buona partita una Juve che soprattutto nel secondo tempo meritava la vittoria ripeto, non ci gira nulla bene contro di noi adesso fanno mezzo tiro e fanno gol bisogna passare assolutamente questo momento alla faccia di chi diceva che il quarto posto era già blindato i punti vanno fatti sul campo, non sulle chiacchiere quindi, il Milan che al momento ci sorpassa di un punto mi sembra, ma il relativo secondo o terzo posto l'importante è entrare in Champions ora siamo più sette dal Bologna e bisogna stare attenti perché dietro corrono, detto questo ragazzi peccato, peccato perché si meritava di vincere specialmente nel secondo tempo abbiamo creato anche delle importanti, secondo me, palle e gol però, ragazzi, non ci gira non ci gira nulla se dobbiamo dire le cose come stanno la Juve, specialmente nelle ultime due partite, non gira nulla la fortuna proprio zero basta vedere che prendiamo mezzo tiro e prendiamo gol ripeto, la differenza la fa anche la qualità tecnica perché nel primo tempo l'Atalanta tira una punizione fa gol su schema noi tiriamo tre punizioni tutte e tre sulla barriera ragazzi, iscriviti al canale mi piace al video sempre fino alla fine è un momento che passerà prima o poi passerà un abbraccio e sempre al tuo fianco